Musica Che amici ben trovati e benvenuti a questo appuntamento con l'informazione. In apertura una turpe storia che arriva da Giarra in provincia di Catania. Presunte violenze anche sessuali e di gruppo su una famiglia con problemi psichici. Due persone sono state arrestate, erano vicini di casa del nucleo familiare. Sentiamo. Tra questi palazzi di Via Trieste, noto quartiere popolare di Giarra, già meta di controlli blitz delle forze dell'ordine, si sarebbe scritta una storia infame oltre ogni indecenza. Un'iterra famiglia di disabili mentali, padre e madre 65 anni del figlio quarantenne, occupanti un alloggio popolare al primo piano, sfruttata, sottomessa e persino vittima di abusi sessuali. Atti persecutori e violenza con l'aggravante dell'infermità mentale. E' pesante l'accusa dei magistrati nei confronti di due fratelli vicini di casa, ora arrestati dalla polizia. Nel quartiere si conoscono un po' tutti. Una famiglia vittima dell'ignoranza, commenta qualcuno. Strano, sembravano amici, pare i due si prendessero cura di loro. Cioè, erano amici? Sì, assolutamente amici. No, no, ma proprio che passavano le feste insieme, le domeniche insieme, quindi non lo so tutta questa cosa che è uscita fuori, da che cosa viene. Ma questa famiglia ha subito queste persecuzioni? Qua si sapeva questa storia? Ma lo so. Eppure l'indagine coordinata dalla procura di Catania ha preso le mosse proprio dalla denuncia esasperata delle stesse vittime. Hanno raccontato, trovando finalmente il coraggio, superando i propri limiti, di essere state costrette dietro pressioni psicologiche a fare tutto ciò che i due apparenti benefattori amici richiedessero. Lavoretti e commissioni, vessati e poi molestati. Gli investigatori avrebbero fatto luce persino su uno stupro di gruppo. Per i due fratelli, la procura della Repubblica aveva chiesto il carcere, ma il GIP ha disposto gli arresti domiciliari. I poliziotti della squadra mobile di Ragusa, Siracusa e del commissariato di Lentini hanno liberato una donna colombiana ed arrestato due romeni di 21 e 36 anni per riduzione in schiavitù e furto aggravato di energia elettrica. L'inchiesta è cominciata quando la polizia è stata informata da un centro antiviolenza e bleo di aver ricevuto una richiesta d'aiuto da New York e dai familiari di una giovane mamma colombiana che era stata ridotta in schiavitù dal compagno, nonché padre del bambino, e da un altro romeno. Gli investigatori hanno subito avviato le indagini e dopo poche ore hanno ricostruito la vicenda e rintracciato la donna che si trovava a Lentini in un'abitazione occupata abusivamente da più persone. Gli agenti hanno fatto irruzione e hanno trovato la donna ed il piccolo. Accompagnati in commissariato, la donna ha raccontato tutto agli agenti che hanno così arrestato i due di 21 e 36 anni, accusati appunto di riduzione in schiavitù e furto aggravato di energia elettrica in quanto l'abitazione era collegata abusivamente all'impianto elettrico pubblico dell'Enel. Ancora cronaca con un'altra brutta storia che però arriva da Catania. Rubati i giocattoli destinati ai bambini ricoverati nell'ospedale Garibaldi Nesima, erano stati raccolti dai volontari che avrebbero dovuto consegnarli ai piccoli pazienti per Natale. Francesco Larosa Il Natale è un momento di comunione e grande fratellanza tra i popoli. L'attenzione è riservata soprattutto ai più deboli e ai più bisognosi d'amore ed è un gesto importante che regali un sorriso. Devono averla pensata diversamente invece i ladri che hanno rubato dei giocattoli nel reparto di pediatria dell'ospedale Garibaldi Nesima a Catania. Alcuni volontari avevano raccolto i giochi per i bambini ricoverati con l'intento di donarli ai più piccoli in occasione del Santo Natale. A prendersi cura del significativo gesto, un'associazione di volontariato la cui presidente Angela Leonardi ha preferito non commentare l'accaduto. Resta così l'amarezza per un fatto che tocca anche le coscienze. Ma la medesima associazione di volontari non si rende certo di fronte agli eventi, lanciando un appello per un'ulteriore raccolta di giocattoli. In quanti lo vorranno infatti? Potranno donare dei giochi all'ospedale Garibaldi, che i volontari provvederanno poi a distribuire i piccoli bisognosi, regalando loro un importante sorriso in un momento speciale dell'anno. I carabinieri della compagnia di Palagonia hanno arrestato in flagranza il 37enne Sebastiano Di Blasi del posto, poiché è ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione. Ieri i militari hanno fatto irruzione nell'abitazione dell'uomo, trovando e sequestrando 30 grammi di cocaina, suddivisa in dosi, qualche dose di marijuana ed un centinaio di euro in contanti all'interno del garage. Trovata anche una Mercedes classe A, risultata rubata lo scorso primo ottobre a Catania. L'auto è stata restrituita al proprietario, mentre Di Blasi è stato rinchiuso nel carcere di Caltagirone. Tombe allagate al cimitero di Catania. È successo di nuovo. Parla ai nostri microfoni l'assessore ai lavori pubblici, Luigi Bosco. Una situazione intollerabile, quella palesata al cimitero di Catania, nell'area dedicata a San Francesco d'Assisi. Nei giorni scorsi è soggetta ad allagamenti dopo le abbondanti piogge cadute sul capoluogo etneo. Tanti familiari che hanno scoperto le bare dei propri congiunti, immersi in alcuni centimetri di acqua, a causa dell'allagamento delle tombe, tanto da rendere necessario l'intervento delle pompe idrovore per aspirare l'acqua. Una situazione insostenibile che ha scatenato il malcontento di quanti. Hanno visto galleggiare le bare dei propri congiunti all'interno dei loculi. Una situazione che si è peraltro riproposta a distanza di tempo e per la quale il comune di Catania dovrà al più presto trovare i giusti correttivi. Noi abbiamo fatto un intervento con i nostri mezzi e un intervento di drenaggio, circondando l'area interessata da questi fenomeni attraverso una trincea drenante. Questo consente il fatto che le acque che vengono dall'esterno di quest'area vengono raccolte e convogliate poi a un collettore finale. Ora, recentemente, si è verificato un fenomeno probabilmente legato alle precipitazioni notevolissime che ci sono state, che le stesse acque che cadono nell'area e non quelle che vengono dall'esterno, che abbiamo intercettato, hanno creato questo problema. Quindi noi stiamo individuando una serie di ricerche per vedere l'effettiva causa e trovare una soluzione adeguata che potrebbe essere di varia natura. Ma prima dobbiamo conoscere il motivo del fenomeno perché non sono acque che vengono dall'esterno ma perché quelle sono state intercettate. Quali sono le soluzioni possibili anche per tranquillizzare i parenti? Queste possono essere di natura anche diametralmente opposta. una potrebbe essere quella di fare una serie di fori verticali drenanti che devono attraversare lo stato di argilla sottostante perché purtroppo lì abbiamo uno stato di argilla significativo che è quello che consente di fare la raccolta di queste acque. Quindi noi dobbiamo fare una serie di perforazioni, attraversare lo stato di argilla, le acque potrebbero essere convogliate in queste fori. L'altra sarebbe quella di fare delle pavimentazioni, cioè ci sono delle stradelle che non sono state pavimentate, impermeabilizzare pure quelle in maniera tale che l'acqua lì scivoli e non vada alla quota in cui poi può fare danno alle tombe. Rapina un 61enne a Fiumefreddo di Sicilia ma ad assistere alla scena c'è il comandante della stazione dei carabinieri di Masca, l'innunzio Mammino che insegue il ladro e lo arresta. L'uomo cercava di disfarsi di una pistola scacciacani calibro 8, modello Bruni perquisito. È stato trovato in possesso di circa 1000 euro in contanti, soldi ritenuti provento di precedenti rapine. L'arma è stata sequestrata mentre al malvivente sono stati concessi i domiciliari in attesa del giudizio. E ancora grave incidente stradale autonomo. Stamani torno alle 6 a Giarre, lungo Viale Don Minzoni, una Fiat Panda guidata da una donna mentre percorreva l'arteria in direzione di Giarre. Per cause ancora da accertare, ha perso il controllo finendo contro il muro di cinta della villetta che si affaccia sulla rotonda di Largo Cismon del Grappa. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118, una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di riposto e una pattuglia di carabinieri. La conducente dell'utilitaria ha riportato ferite. Fortunatamente Lieviti è stata soccorsa e accompagnata all'ospedale di Acireale. Voltiamo pagina. Il bilancio comunale di Catania da approvare entro l'11 gennaio. C'è l'ultimatum del commissario della Regione appena lo scioglimento del Consiglio. Ieri intanto Aula Deserta si replica oggi. Il Consiglio comunale di Catania rischia lo scioglimento dopo l'ultimatum sul bilancio del commissario regionale ad acta Carlo Turricciano. Lo stesso chiamato a seguire l'iter per il rendiconto 2015. A poche ore dalla seduta consigliare è stata recapitata a Palazzo degli Elefanti la diffida del funzionario regionale. Il bilancio preventivo va approvato dall'Aula di Palazzo degli Elefanti entro l'11 gennaio. Se ciò non accadesse, la delibera sarebbe adottata ad ufficio ma soprattutto decadrebbe il Consiglio. Tutto adesso ruota attorno ad un emendamento tecnico che possa rispondere alle osservazioni mosse dal Collegio dei Revisori. Questi ultimi hanno messo nero su bianco le criticità riscontrate in una relazione lunga 60 pagine in cui calcano la penna sui ritardi dell'amministrazione bianco. Tra le contestazioni, il mancato aggiornamento dell'inventario dei beni mobili ed immobili hanno messo il riscontro delle misure correttive suggerite nel corso del 2015 per far fronte al disavanzo di amministrazione. Altro macigno, le partecipate con la bocciatura del fondo di copertura ritenuto non sufficiente. Le correzioni sono già state trasmesse al Consiglio ma ieri alla seduta convuccata d'urgenza dopo i rinvii dei giorni scorsi assente l'assessore al bilancio Salvatore Parlato. Una guida cartacea e online per indirizzare gli studenti di scuola media ad una scelta consapevole della scuola superiore in iniziativa dell'amministrazione comunale di Acireale non solo per gli alunni della città. La guida alla scelta della formazione scolastica riservata agli studenti delle scuole medie di Acireale dei comuni vicini si amplia coinvolgendo 15 istituti, diversi centri di formazione e da quest'anno anche gli istituti paritari. La dettagliata guida ricca di notizie è stata fatta stampare in mille copie per essere distribuita a tutti gli studenti del progetto non solo alunni delle terze medie ma anche delle seconde per informare sulle tante possibilità formative del territorio e per studenti e famiglie c'è anche il supporto dell'assessorato alla pubblica istruzione con personale e uffici pronti ad illustrare ed indirizzare gli scolari sull'offerta degli istituti superiori del comprensorio tenendo conto della nuova dicitura ministeriale dell'alternanza scuola lavoro di cui la scuola alberghiera è stata apripista presente all'incontro odierno con un proprio banchetto. Al salone conferenza dell'assessorato alla pubblica istruzione di Acireale per la presentazione del progetto erano presenti dirigenti scolastici e funzionari comunali che hanno allestito il libricino disponibile anche nella versione online collegandosi col sito del comune di Acireale l'assessore Adele Danna. Oggi presentiamo la nuova guida per le scuole non solo a Cesi ma del territorio perché sono comprese anche quegli istituti superiori che non sono nel nostro territorio questo per far sì che i ragazzi e le loro famiglie possano appunto informarsi e orientarsi nel panorama della gamma di scuole presenti nel nostro contesto comunitario. Ovviamente un elemento chiave ormai con la legge 107 la legge della buona scuola è l'alternanza scuola lavoro e quindi ovviamente le scuole devono attrezzarsi per fornire dei percorsi che siano validi dal punto di vista formativo in merito non solo alle competenze tecniche specifiche ma anche alle competenze trasversali a come saper stare all'interno di un'organizzazione lavorativa e anche l'ente locale ha fatto numerosi protocolli di intesa, accordi con le scuole del territorio per far sì che i propri uffici possano diventare luogo di formazione. Al via Giarre le nuove regole per la sosta a pagamento c'è l'accordo tra il comune e la società che gestisce gli stalli si potrà lasciare l'auto gratuitamente la prima mezz'ora ma solo nel parcheggio Iolanda. Dopo numerosi incontri-scontri tra l'amministrazione comunale gerrese guidata dal sindaco Angelo Danna da una parte e la giara e parcheggi dall'altra finalmente qualcosa di migliorativo è stato realizzato. Infatti a partire da domani 16 dicembre non solo saranno operativi nuovi stalli segnati nella via Callipoli, in via Pirandello e nella piazza della stazione ferroviaria per citare i più frequentati quindi con l'obbligo di pagamento della sosta cosa che sino ad oggi non avveniva e per questo avvisiamo gli utenti a prestare attenzione ma anche con la modifica del tempo tariffa che molti malumori aveva suscitato nel passato. La novità consiste nella introduzione della tariffa oraria di mezz'ora al costo di 40 centesimi mentre sino ad oggi si pagava per un'ora intera. Inoltre è stata data la possibilità ai commercianti che aderiscono di acquistare dei voucher da regalare ai clienti che fanno degli acquisti. Discreta elestricità è stata chiesta ancora dall'amministrazione agli operatori nel controllo iniziale dando modo agli utenti di recarsi nel punto più vicino alla ricerca della macchinetta distributrice e considerando anche il fatto che buona parte di coloro i quali usufruiscono del servizio delle strisce blu non sono di jarre quindi non conoscono con esattezza quella che è la distribuzione di queste macchinette. Da puntualizzare anche un'altra realtà di una voce che si è diffusa che la prima mezz'ora sarebbe gratis. Chiariamo che la prima mezz'ora è gratis per coloro i quali lasciano la macchina nel parcheggio di via Principessa e Iolanda mentre per le strisce blu c'è solo la possibilità del frazionamento della tariffa oraria. Nuovo furto di cavi della pubblica illuminazione a riposto rubati oltre un chilometro e duecento metri di fili interrati al servizio della pubblica illuminazione che allo stato attuale è spenta lungo il tratto di via Mattarella nell'area compresa tra l'Eurospin e via Carbonaro nel medesimo tratto appunto l'illuminazione elettrica è adesso disattivata. Ad Aci Sant'Antonio Marines di Sigonella impegnati in opera al servizio della comunità e del territorio stavolta nell'Oasi Maria Assunta ancora Nicodemo Continua l'opera di buon vicinato che da sempre connota l'operato dei Marines distanza a Sigonella questa volta ad usufruire del loro volontariato la struttura dell'Oasi ad Aci Sant'Antonio centro voluto dal compianto sacerdote Acesimo signor Cosentino quale luogo di accoglienza per i sacerdoti bisognosi d'aiuto il centro diretto da padre Giuseppe Cicala svolge un'opera veramente meritoria nel riguardo di tanti sacerdoti anziani che magari si ritrovano soli nella loro vecchiaia quest'oggi 14 Marines tutti nativi della Florida ma distanza a Sigonella hanno provveduto a tinteggiare molte delle ringhiere della struttura effettuando lavori a regola d'arte tra i 14 anche delle ragazze che ci hanno detto di apprezzare molto la cucina siciliana anche se poi crea problemi di linea il responsabile della missione dei 14 Justin Ace ci diceva appunto qual è lo scopo finalizzato proprio a rendere quel rapporto di collo non ci sono altre notizie ma c'è un servizio a cura del nostro servizio marketing da vedere dopo vi lascio al meteo e poi alle previsioni del tempo intanto vi ricordo che questo TG potrete riseguirlo su internet sul nostro sito all'indirizzo reitv.it che vedete in sovraimpressione sulla nostra pagina Facebook grazie per averci seguito e a voi tutti buon proseguimento ad aciliare per le festività natalizie c'è anche la proposta del mercatone della ceramica un marchio franchising con 13 punti vendita nell'isola molto apprezzato dalla clientela che trova assortimento a prezzi di grande convenienza dallo scorso mese di maggio in via Sclafani 35 su una piattaforma espositiva di 1000 metri coperti e 5000 metri quadrati di deposito merce opera l'azienda leader nel settore della ceramica con tante idee per arredare il vostro bagno e perché no nel periodo natalizio a portare qualche miglioria alla vostra casa interna ed esterna basso assortimento di sanitari completi di rubinetteria piatto dolce rivestimenti ed altri accessori a prezzi di realizzo l'azienda offre inoltre rivestimenti di varie forme colore e materiale di ultima generazione a prezzi convenientissimi basso l'assortimento nel reparto riservato alle vetrinette da bagno sospese con annesso lavabo in ceramica e specchio oltre alla vastissima esposizione di rubinetteria incredibile poi l'assortimento di gress porcellanato di prima scelta tra le novità per redare l'esterno casa i muretti ad incastro di varie forme e dimensioni a prezzi imbattibili ad Aceriale via Scafani 35 telefono 095 764 9776 c'è il mercatone della ceramica con la propria proposta di Natale a prezzi di vera convenienza l'esposizione osserva l'apertura anche sabato pomeriggio l'imprenditore Michele Leotta vi aspetta per farvi conoscere le tante proposte in calendario offre dei prodotti di ottima qualità a prezzi convenienti siamo qui ad aspettarvi con piacere veniteci a visitare il meteo è offerto da il centro analisi SAEM del dottor Antonino Di Carlo ora è nei nuovi accoglienti locali di via Marchese di San Giuliano 21 a Cireale vicino la biblioteca Zelantea centro analisi SAEM del dottor Antonino Di Carlo apertura laboratorio prelievi tutti i giorni dalle ore 6 incluso il sabato centro analisi SAEM via Marchese di San Giuliano 21 a Cireale per info 095 60 48 83 questo venerdì di dicembre ci presenta un cielo coperto da nubi ma con possibili schiarite su tutta la nostra isola mossi sia il mare Ionio come il Mediterraneo calmo il Tirreno temperature che vanno a Catania da un minimo di 14 a un massimo di 15 il meteo è offerto da il centro analisi SAEM del dottor Antonino Di Carlo ora è nei nuovi accoglienti locali di via Marchese di San Giuliano 21 a Cireale vicino la biblioteca Zelantea centro analisi SAEM del dottor Antonino Di Carlo apertura laboratorio prelievi tutti i giorni dalle ore 6 incluso il sabato centro analisi SAEM via Marchese di San Giuliano 21 a Cireale per info 095 60 48 83 NONO a Cireale e che vetti che vanno a la cireale a Cireale Grazie a tutti.